Un primo set straordinario e poi un calo, cosa è successo? L'approccio è stato molto positivo, un approccio molto buono, c'era grande intensità, c'era anche dell'ottima energia. Poi è chiaro che non siamo in un momento super felice e chiaramente quando dopo andiamo un po' in difficoltà, che magari gli altri crescono, che vanno avanti col punteggio, dopo facciamo fatica a mettere in campo la nostra pallavolo. Una squadra a due velocità? Sì, senza ombra di dubbio sì, diciamo due squadre, fra il primo set e gli altri diciamo due squadre.